Non fatelo raccontare tutto il meglio per il tuo Natale da Nicola Tianese puoi trovare Quanta magia nella sede di Learcide de Gasperi numero 33 a Pagani Abeti, sfere di vetro, decorazioni, natività, luci, babbo Natale di ogni dimensione E Nicola Tianese non è solo Natale, per voi ricambi di elettrodomestici, stufi a pellet, a legna, elettriche ed a gas Nicola Tianese con il suo mangico mondo del Natale vi aspetta nella nuova sede di Learcide de Gasperi numero 33 nei pressi dell'ospedale di Pagani e nella sede di Corso Ettore Padovano, sempre a Pagani